Ecco, nei giorni scorsi ha deciso di chiudere dopo una breve riapertura e ha messo un cartello fuori dal suo locale. Un segnale legato anche a un certo malcontento, anche un po' un'esasperazione della situazione. Sì, no, il problema è che il decreto c'è, le misure ci sono, sono chiare, un metro, però il problema che si pone è poi la responsabilità nel momento in cui il cliente, l'avventore, non rispetta magari questo metro. Il problema si pone quando magari 3-4 persone escono a fumare. Si crea l'assemblamento, ne sono responsabile io o è in capo a chi esce? E io devo stare qui a fare la valia o posso preoccuparmi di servire la gente come il nostro lavoro? Questo è il problema principale, perché in questi due giorni, a incasso ridotto della metà, abbiamo dovuto stare qui in due a lavorare. Quindi pagare il personale praticamente il doppio, perché un lavoro maggiore di prima comportava meno forza lavoro, oggi si riduce il volume di affari e si raddoppia praticamente la necessità della forza lavoro, perché bisogna stare qui di fatto a controllare, non sapendo poi di chi è la responsabilità. Io non è che non richiamo i miei clienti, ci mancherebbe, ma non posso neanche continuamente stare lì. E magari risulta anche un po' antipatico richiamare. Antipatico giustamente, perché una volta, te lo dico due volte, te lo dico, la terza volta cosa faccio? Ti mando fuori? Devo fare questo? Se devo farlo lo farò. Però dobbiamo anche capire, ma anche capire che tipo di responsabilità abbiamo noi gestori su questo tipo di gestione di fatto. Ecco, potrebbe risultare anche un po' incompatibile magari l'apertura serale di questi bar, magari forse più semplice al mattino? Io ci ho pensato, secondo me, per quello che è lo spirito della legge. Poi ovviamente ci sono interessi economici importanti, noi due mesi e mezzo che non entra un soldo, come tante altre, i miei colleghi e tante altre ovviamente filiere. Però, a quanto pare, secondo me, il bar è socializzazione, stare insieme. Chi va al bar lo fa proprio per stare insieme. Quindi, se vogliamo lasciarlo aperto come servizio durante il giorno, per chi può avere bisogno di mangiare un panino piuttosto che usare i servizi igienici, eccetera, va bene. Ma la sera, forza di cose, si presta a creare aggregazione e a creare poi delle cose, dei comportamenti che si sposano male con il Covid, secondo me. Quindi, a sto punto, se bisogna lavorare un po' anche con la paura di non essere in regola, col fatto di dover magari stare sempre a fare la baglia, come si diceva prima, forse era meglio che la prima settimana si apriva alle 6, la seconda fino alle 6 di sera, la seconda fino alle 8, e pian pianino si organizzavano anche le persone. Perché comunque, non dimentichiamo, siamo stati due mesi e mezzo in casa, e quando si esce, poi, ovviamente poi dipende anche dalla fascia del cliente, dell'orario, eccetera, però sicuramente, sicuramente, voglio dire, la sera la gente vuole stare insieme. E per quanto riguarda il controllo della temperatura? Allora, noi ci siamo organizzati, attraverso la farmacia, in tempi ragionevolissimi, abbiamo avuto sin dall'inizio il termometro, poi non si sapeva inizialmente, poi leggevo, tra l'altro, stamattina proprio su Leco di Bergamo, che adesso è obbligatorio a prescindere, prima sembrava che fosse obbligatorio solo per chi si sedeva e non chi stava al banco, che in effetti mi sembrava anche una cosa un po' difficile, io fuori devo chiederti cosa fai, allora, per provarla o no, noi la proviamo indistintamente a tutti, prima che entrino, e anche questo, ritorniamo al discorso di prima, a dire che una persona deve stare fuori a fare questo, perché se uno entra e la febbre ce l'ha, di fatto mi ha contaminato il bar, giusto? Quindi io devo farlo in modo preventivo e questo è a un costo anche.